Ciao a tutti ragazzi sono Leotech e bentornati in questo nuovissimo video del canale In questo video andremo insieme a vedere come completare molto semplicemente la sfida che ci crede di andare a riparare elicotteri distrutti Per completarla dovrete atterrare esattamente in quel punto là della mappa E dovrete recarvi là per appunto poter riempire, diciamo così, riparare questi nuovissimi telescopi che sono stati all'aggiunta all'interno di Fortnite Quindi andate qua sopra, dovete salire, potete anche farla a piedi, è uguale, io lo sto facendo ora in barca perché c'è tanta gente Quindi troverete questi telescopi, come vedete ora esattamente lassù, che sono identici agli telescopi che erano prima, solo che ora sono trasparenti Tenete ora muto il tasto per interagire in modo da completare questa sfida Come vedete c'è già anche un nostro cerberrimo nemico Quindi ci muoviamo cercando di non morire E andiamo Ok, perfetto Come vedete andiamo qua sopra Esattamente qua troveremo il nostro nuovissimo telescopio Tenete per muto e vi serviranno 20 di metallo, il rissa squadra li trovate subito quindi vi consiglio di farla in rissa Tenete per muto come vedete in alto a destra abbiamo completato la prima sfida per poter sbloccare questa sfida Quindi detto questo video di oggi può terminare qua Spero vi sia piaciuto e mi raccomando iscrivetevi a questo canale Attivando la campanella delle notifiche se non mi piace E detto questo ci vediamo alla prossima Grazie